perché va ad evaporare un po' la parte liquida guardate un po' ciao oggi ti mostrerò come fare un seitan senza glutine lo so non si potrebbe chiamare seitan visto che non c'è glutine ma non sapevo come chiamarlo per farti capire che è come il seitan senza glutine non è il muscolo di grano perché ho tentato di indovinare in queste settimane in cui avevo promesso la ricetta ma semplicemente una mia ricetta che replica appunto la consistenza della fettina di seitan utilizzo un legume in questo caso i piselli e poi ti svelo tutto durante la ricetta qui sotto trovi quella scritta con tutti gli ingredienti la ricetta è stampabile con tanti tantissimi trucchetti che magari durante il video mentre cucino non dico ma che sono fondamentali per la riuscita della ricetta ok ci vediamo al fine video e goditela perché veramente soprattutto tu che non puoi mangiare glutine perché sei celiaco credo che mi vorrei un po' più bene adesso allora andiamo ad utilizzare un mixer da cucina e andiamo a mettere all'interno i piselli sale e aglio in polvere l'ingrediente segreto che è lo psyllium che non è nient'altro che il nostro elegante mi raccomando cuticola di psyllium non semi questa polvere qui bianca qui sotto al video vi lascio anche il link dove potrei poterlo acquistare e salsa di soia adesso vado a frullare il tutto per aiutare il mio frullatore a frullare bene e soprattutto perché devo andare ad attivare lo psyllium devo aggiungere all'interno del mixer da cucina un po di acqua allora questa è la consistenza che devo ottenere verde non vi preoccupate perché dopo diventerà marrone l'importante è che i piselli chiaramente siano volti e ben sullati prendiamo un foglio di pellicola trasparente che ci occorrerà per dare la forma allora questa è la consistenza che devo ottenere allora abbiamo utilizzato i piselli però potete utilizzare anche altri tipo di legumi ceci lenticchie l'importante è che sappiate che il momento in cui andate ad utilizzare un altro tipo di legume potrebbero variare anche le proporzioni dello psyllium questo perché chiaramente dipende da quanta acqua assorbe il legume nel momento della cottura e andiamo a chiudere un pacchettino andiamo a fare un pacchetto con una carta da forno adatta per la cottura dopodiché andiamo a chiudere con dell'alluminio non vi preoccupate l'alluminio non entra in contatto con l'alimento quindi non vi agitate si può usare tranquillamente ci serve solo per dare la forma al panetto perché se no se lo mettiamo nella pentola senza dargli la forma si allarga adesso la mia vaporiera è pronta e vado a mettere all'interno il panetto e lascio cuocere così per un'ora allora trascorso il tempo prendiamo con una pinza che adesso lasciamo raffreddare così senza toccare nulla mi raccomando deve essere super freddo ora andiamo a togliere tutta la carta tutto l'alluminio e come potrete vedere già il colore si è molto scurito allora questo per farvi vedere all'interno è proprio come se fosse come il seitan perché come vedete ha formato come se fossero proprio delle bollicine che di solito forma il glutine come vedi elastico e quindi con questo tipo di impasto potete farci qualsiasi cosa adesso io vado a tagliare per lungo in questo modo tagliando il panetto così per lungo vado ad ottenere due fettine se volete assaggiarlo già così è buonissimo mi vado a preparare la marinatura quindi verso della salsa di soia un goccio di sciroppo di acero un po di agave una puntina di paprika affumicata e vado ad immergere le mie fette in questo modo come vedete in un secondo diventa già marrone adesso le andremo a cuocere diventeranno super scure e lascio così mentre mi preparo la padella allora andiamo a riscaldare un filo di olio vado a mettere due spicchi di aglio rosmarino fresco adesso che soffrigge andiamo a cuocere le fettine se avete un paraschizzi ve lo consiglio ovviamente c'è un profumo incredibile adesso dobbiamo soffriggere e cuocere da entrambi i lati fino a doratura adesso la fettina perderà un po di volume perché va ad evaporare un po la parte liquida guardate un po allora che cosa ne pensi spero di aver regalato questa ricetta soprattutto a chi non può mangiare il seitan e finalmente può realizzare questo sogno di farsi questa bella fettina da mangiare con delle patate arrosto mamma mia è veramente squisita il sapore è piuttosto intenso quindi ti consiglio di utilizzare una salsa di soia con meno sale quindi una salsa tamari questo perché così tra la salsa di soia che andiamo a mettere all'interno dell'impasto e quella che utilizziamo per fare la marinatura non andiamo ad ottenere una fettina di seitan non seitan troppo saporita ok quindi mi raccomando se ti è piaciuta questa ricetta e se ti è tornata utile se ti va lasciami un like e scrivimi nei commenti che cosa ne pensi qui sul mio canale trovi tantissime ricette vegane per non perdertene neanche una mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto ti mando un bacio ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana